bentornati alla cucina del gatto oggi prepareremo una fresca insalatina con le fave facile da preparare e incantevole per il palato ma vediamo gli ingredienti 2 kg di fave fresche 40 g di pecorino 20 g di acido balsamico sale pepe olio extravergine oliva menta fresca aglio cominciamo sbucciando i baccelli e mettiamo da parte i semi per vedere meglio come si sbucciano le fave guarda il video del box dove spiego bene come si fa messiamo i semi sbucciati delle fave in un pentolino con acqua bollente per 4 minuti sciacchiamoli sotto l'acqua corrente e lasciamoli scolare intanto con un pela patate tagliamo la buccia di un limone facendo attenzione a non grattare via anche la parte bianca che è amata tagliamo la buccia a listarelle sottili in una ciotola aggiungiamo l'olio extravergine oliva l'acido balsamico il sale e il pepe mescoliamo e aggiungiamo la scorza di limone frittiamo le foglie di menta insieme all'aglio e aggiungiamolo al composto per dare più profumo al piatto aggiungiamo i semi delle fave mescoliamo bene grattiamo il pecorino a scaglie infiattiamo con del pane croccante e portiamo a tavola se la ricetta vi è piaciuta clicca su mi piace e iscriviti al canale alle prossime ricette del gatto ciao 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 ciao